Mirko ha fatto cose pesanti. Grande fratello, la confessione shock di Greta a Perla, è successo dopo la diretta. Grande fratello, la rivelazione shock di Greta a Perla su Mirko. L'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini ha riservato una grande sorpresa. Mirko Brunetti ha ricevuto la visita della madre con la quale ha avuto degli scontri pesanti. Poi il risultato del televoto. In nomination alla precedente puntata erano finiti Mirko, Sara Ricci, Perla Vatiero e Anita Olivieri. Ebbene alla fine ad uscire, tra la sorpresa generale, è stato proprio Mirko col 19% dei voti. Anita ha avuto una specie di crisi isterica quando ha saputo di essersi salvata, poi i preferiti, quindi immuni, sono stati Rosicin, Massimiliano Varrese, Letizia Petris e Fiordaliso. Cesara Buonamici ha invece reso immune Beatrice Luzzi. Dopo la fine della puntata Greta ha fatto delle rivelazioni shock a Perla Vatiero, il tatuaggio dopo due settimane è nulla confronto ad altre cose. Se te le dicessi adesso tu diresti ma non è mica normal. Le parole di Greta a Perla sul rapporto con Mirko Poi ti dirò tutto, ha proseguito Greta confidandosi con Perla, adesso bisogna tutelarlo un minimo. Cose sue nei miei confronti. Cose che io farei dopo almeno dieci anni di relazione. Quindi anche quando litigavamo dopo la visione delle puntate, lo vedevo, lui cambiava, parlavamo fino alle 5 del mattino. E io gli dicevo sempre devi tornare con Perla, te lo dico con calma torna da lei. Se voleva andare a convivere con me? Anche cose più pesanti, ha rivelato Greta, se mi voleva sposare? Più pesanti, però pesanti nel senso che io gli dicevo di tornare da te e lui diceva cose pesanti per dimostrarmi che voleva me. Andare a convivere ok, voleva farlo subito, ma ha fatto anche cose più pesanti, credimi. Ad oggi se ci penso mi dico che non ero normale ad assecondarlo, ma lui non era normale a dirle. Però in particolare c'è un gesto folle. Bello se vuoi creare qualcosa, ma molto folle. Per dimostrarmi che ero la donna della sua vita. A me qui certe volte mi faceva capire che non si avvicinava a me perché c'eri tu, dice ancora Greta a Perla, quindi mi fai capire che hai un sentimento, ma che per rispetto tuo non faceva nulla. Poi allo stesso tempo io questo suo rispetto non lo vedevo. Si è comportato allo stesso modo con tutte e due e non è stato bello. Quando si avvicinava a me lo faceva nascosto. Era come se volesse stare con un piede in più scarpe e io non lo concepisco. Qui c'è un problema di base. Lui mi ha fatto capire che si è buttato su te perché non aveva la sicurezza di me. Questo lo giuro su mia madre che è la persona più importante della mia vita. Poi mi giurava che con te era finita e che tu lo sapevi. Poi Mirko la scorsa estate ti descriveva come una fuori di testa. Ti chiedo scusa se non ho pensato cose belle di te, ma lui mi diceva certe cose e io poi gli credevo.